Raccontaci bene com'è andata questa storia. Noi siamo usciti dalla scuola a San Paolo. Poi ci ha visto la giornalista, ci ha dato 20 euro per dire queste cose, che noi rubiamo al giorno 1000 euro, che deve morire la vecchietta, queste cose. Io ho detto. E tu l'hai detto? Sì. Perché l'hai detto? Perché io ero fumata, lei mi ha dato 20 euro, lei mi ha detto che devo dire così. Io ho detto così.